Ciao, sono Gaglia Reale, ho studiato con Mattia Di Tommaso in tre dei suoi corsi, due online e uno di persona, di presenza, l'anno scorso. Sin dall'inizio, sin da quando ho iniziato a studiare con Mattia, quello che è stato l'aiuto principale che ho avuto è stato quello di fare chiarezza all'interno della progettazione europea. Quindi non un corso in cui semplicemente si imparasse a scrivere un progetto, ma si capissero quelle che sono le cause che hanno mosso l'Unione Europea a mettere a disposizione dei fondi per la realizzazione dei progetti e il fatto che esistono dei metodi ben precisi e verificabili per scrivere un progetto e portarlo a compimento e a cosa sono volti i progetti, come mai sono nati e a cosa servono, quindi quali tipi di obiettivi si prefiggono. La seconda cosa che è stata per me importante è il click che mi è venuto quando, dopo aver appreso la metodologia, ho potuto comprendere che diventare progettista non è sulla onda di una idea brillante, generazione di più idee brillanti che possono venire e su quella scia la costruzione di un progetto, ma che c'è una metodologia che fa sì che questo possa diventare una professione e che ha dei processi ben precisi da seguire fino al raggiungimento dell'obiettivo e alla conclusione del progetto. Proprio per questo motivo è nata la voglia di fare un'associazione che potesse dedicarsi alla scrittura, al management di progetti europei e quindi il risultato finale è stato quello di creare appunto un'associazione che sarà fondata appunto all'inizio del 2021, quindi sta per avere compimento e questo è il primo importante risultato senza i suoi corsi, sicuramente non avrei pensato di fondarne una dedicata ai progetti.